Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateinCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi ci sono in grance E siamo tornati con l'episodio di Rottutti Un porco due No me ne va, basta ma arriva che pesco Shakira Obama Young Robben, Gozze, Ribery Schweinsteiger, Benadia Questo c'era un per culo Questo c'era un po' male Vabbè io sono tornato perché mi hanno costretto Comunque con la maglia rossa La maglia rossa porta bene perché la maglia di Natale Babbo Natale, Coca Cola, GetRet Illuminati con firma del 666 La maglia di Gozze è il numero 7 7-1, 6 6 è il numero del 666 Bella Bella, questo l'ho stagliato sotto L'ho tagliato Ah, me ne sa Che cazzo però Ma non mi può far più alle balle del genere Se a percorso Noio Chia aveva un po' Ti vengo un primo comprensione Ma e Ma perché non mi vuole esce c'è chi vuol dire uno due ma muore in mezzo che cazzo i pericolari ma lo sai gioco un po' che culo ma che a parte è troppo importante c'è il tuo cuore di acqua c'è il tuo cuore 15 quando guarda quanto cazzo no capito però ma non c'è stato di male o fallo nel senso che fa quanto c'è stato di sfiga tutto un po' un po' ecco il tiro c'è piazzata perfetta avevo spinto per sbagliare un po' non è male e perchè quello che ha detto no sto a fare una cazzata invece l'ho spinto comunque e quindi The Crystal si fa la canna 1 a 0 mamma mia mamma mia regà tra panetta tra panetta tra panetta mamma mia davvero non ci credevano più neanche loro la squadra ha avuto un calo incredibile in queste ultime partite guardami sei in coglioni si stanno a giocare il campionato e te mi guardi mi dici guardami che vuoi non ci voleva no no m e passa però capito però cazzo 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 ho preso 4 rigori in ultime 3 partite adesso destra buttate a destra fermo al centro adesso fermate al centro e poi buttate a destra destra dove rimase e guarda guarda ora come sto cioè ancora sto così pericura a destra guarda a sinistra ma si è buttato lui a sinistra perchè quando ha tirato mi sono rimesso al centro e quindi vuol dire che si è buttato a sinistra per quello per forza cazzo 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 di rigor vabbè ole controviede incredibile che ci lavano solo ma non 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 ma non 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 ma non ma non ma non ma non ma non è ma non ma ma non s. aiutato po mu rupo riona the capo tudo fiction ho capito che c'è un modo si è un pezzi a tuo dico la cosa mamma mia che cazzo le varie 500 poco 2 libera ripresa o no 500 euro vecchia basta basta ah sono io nois precisa e precisa e precisa no 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 marcolino no se cosa no non parlare di suoi sono un culo mannaggia non ci posso dire la fatta certo che va mai a cura partita prima uguale mamma mia non non dovrebbe essere colpa nostra però tanto se perdiamo ti dà comunque persa colpa nostra non poteva finire peggio guarda non poteva finire peggio cioè si è messa pure la connessione niente raga ho visto adesso il modem è colpa del nostra perchè non poteva aspettare due minuti per andare via niente siamo riusciti a cioè mancavano quattro partite siamo riusciti a perdere tutte non mi pare vero guarda non so che fa ti dico qualcosa te no siamo riusciti sta rosicando è la prima volta che vedo ovviamente lui rosicare così pesantemente comunque niente da domani si riparte con la stagione quattro con molto entusiasmo però noi saremo sempre forti perchè stavolta la stagione quattro ce la vinciamo tutta di fila non mi frega un cazzo vero? comunque dai noi ci vediamo al prossimo video e bella